24esima edizione della giornata europea della cultura ebraica tra bellezza e biodiversità in un dialogo arricchente tra culture e ambiente nell'ambito dell'iniziativa La natura non va in vacanza, nello scenario della riserva del reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara in località Santa Filomena. Narrare ai ragazzi la diversità che è anche un valore e si parla anche di bellezza, quali sono le tematiche che uniscono la cultura ebraica a quella italiana? Anche abruzzese specificamente, innanzitutto le culture nostre vanno indietro migliaia di anni, originalmente siamo stati società pastorali e grandi tradizioni familiari Allora anche la cucina riflette questo, la diversità fa parte della vita, è sempre fatto parte, adesso parliamo di diversità ma è sempre stato Noi abbiamo in comune questo amore per la famiglia, amore per la natura e rispetto per il creato, per tutta diversità Vorrei fare un ponte tra questi due temi e metterei proprio il tema centrale di questa giornata, cioè la bellezza Biodiversità, territorio e persone che abitano questi territori abruzzesi, italiani, abruzzesi Possono attraverso una riflessione sulla bellezza delle proprie scelte, cioè di cosa nutrirsi, di cosa alimentarsi Concorrere a mantenere il proprio migliore stato di salute, contemporaneamente, immediatamente procurando nell'ambiente E nei comportamenti emulativi dei più piccoli, anche delle scelte coerenti con il benessere del paesaggio del territorio Il che significa praticamente vedere nel cascer quella che è un po' la preistoria del nostro futuro di sostenibilità ambientale Grazie! 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 Grazie!